rischio di perdere il comando di preparazione il ministero è infugliato sta scatenando una guerra a Milano lo vuoi capire o no? dobbiamo prenderlo a tutti i costi carlo vuoi a te se ti fa scappare questa andava ragazza? devi stare calmo Michael devi stare nell'ombra ragazzo e tu almeno mi dici quello che devo fare è chiaro? è chiaro? il mio più grande desiderio è quello di vedere le persone fare le cose che non farebbero mai in vita loro Carmine qual è la cosa che non faresti mai in assoluto? per tutti i soldi del mondo sei disposto per tutti questi soldi a uccidere una persona? dove ti voglio? io non avrei mai il coraggio di uccidere qualcuno mai ma voglio dire che non faremo è la cosa che non faremo